Archiviata la prima prova, il compito di italiano, gli oltre 11.000 studenti abruzzesi impegnati negli esami di Stato sono tornati oggi sui banchi per affrontare la seconda prova, quella specifica per ogni indirizzo di studio la cui materia è stata resa nota dal Ministero a gennaio. I ragazzi del liceo classico si sono confrontati con la versione di greco tratta dal libro 58 di Luciano di Samosata dal titolo L'ignoranza acceca agli uomini, mentre gli studenti del liceo scientifico hanno affrontato matematica con due studi di funzione, lingue e la prova per i candidati del liceo linguistico. L'Expo 2015 è stato l'argomento della prova dell'istituto tecnico per il turismo, si è parlato infatti dell'internazionalizzazione del tour operating e il candidato doveva definire un pacchetto per un turista indonesiano in vista dell'esposizione internazionale di Milano. Un brano di Ralph Ellison tratto da Invisible Man per la comprensione e produzione in lingua straniera del testo letterario e un testo di attualità tratto da El País del 9 giugno 2013 di Avier-Sercas, Otre Europa, sono state le tracce uscite per il liceo linguistico. Per francese la prova prevedeva invece un testo di attualità all'amitié à l'épreuve de Facebook di Frédéric Joannot tratto da Le Monde del gennaio 2004. Per l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione invece la prova è stata sulla conservazione corretta degli alimenti. Infine le tracce di scienze sociali hanno riguardato Marx, Tocqueville e la mobilità sociale.